Cronache mondiali. L'informazione che arriva da tutto il mondo. Perla Vatiero e Greta Rossetti. Questa mattina hanno parlato del trio che si è formato nella casa del GF. La New Entry ha spiegato alla sua inquilina di aver parlato con Mirko e di essere sicura di non provare più nulla per lui. Ho parlato con Mirko, ho cercato di fargli capire che a prescindere dal sentimento siamo due persone diverse. Lui si sente così perché ci sei tu e si sente in imbarazzo. A prescindere dal sentimento che prova, per me è finita. Non ci tornerei insieme, siamo troppo diversi. Abbiamo corso troppo sbagliando perché è stato tutto uno sbaglio. Volevo dirgli di sentirsi libero. Prendo le cose alla leggera, basta avere un rapporto civile. Lui si fa più paranoie. Io sono sicura che lui non provi niente per me. Siamo il giorno e la notte. Perla le ha così fatto notare che era scontato che il suo ingresso creasse disagio. Si crea disagio a prescindere. Se scegli di venire qui, sai che crei disagio. Greta ha replicato comunicando che il programma starebbe preparando nuove dinamiche, senza entrare nei dettagli.